cari pigliamosche bentornati qua sul nostro canale e benvenuti a tutti nuovi arrivati c'è un lavoro che ha suscitato molta curiosità l'ho presentato anche nell'ultimo video di luglio ed è questo sottovaso ricolmo di sarracenie purpure ci sono sarracenie purpure venose saracenie purpure purpure di tante provenienze senza entrare nel dettaglio lo chiamiamo questo plato royal di sarracenia purpurea vi posso confessare che nella mia realizzazione c'è stata un pochino di pigrizia perché che cosa voglio dire che a volte capita che invece di creare tanti vasetti diversi invece di stare a rinvasare tante piante in tanti vasetti diversi vi è in più facile pensare di rinvasare in un vaso solo in questo caso un sottovaso è un sottovaso è un quello che sarebbe il suo compito è quello di un comune sottovaso cioè il trattenimento dell'acqua a servire quello che è il vaso sopra in realtà si tratta lo vedete di un sottovaso diametro 40 50 centimetri in questo caso ricolmo di una collinetta di torba pura solo torba con dentro appoggiate le sarracenie purpure in questo caso in tantissimi mi avete chiesto come poterlo realizzare qual è la fase realizzativa ragazzi è semplicissima questa ve l'ho descritta attraverso le risposte che vi ho dato però a questo punto mi fa piacere poterve la proporre anche se non lo posso fare nuovamente con saracenie purpure non ne ho a disposizione in questo momento così tante da poter realizzare un nuovo sottovaso da potervi mostrare nella fase realizzativa ma lo farò con dione con la nostra vera venere piglia mosche lei sì che è la vera piglia mosche la venere piglia mosche per antonomasia che ho in questo vaso di chiamiamo recupero qui dentro ci sono dione che ormai ci stanno da 3 4 anni sono quei pezzettini di rizoma che rimangono in mano durante i rinvasi durante le lavorazioni magari di altre piante e rimangono quei pezzettini di rizoma che non mi sento mai di buttare via e stanno qua dentro anche queste in torba pura ormai si da un paio d'anni da un paio d'anni mi piace poter pensare che arriva per loro vita nuova e lo facciamo oggi in questo periodo che è perfetto per il rinvaso delle piante perché ci sono temperature ormai ottimali non sono più troppo alte certamente non sono fredde le piante come dire osservano quello che è il periodo di risveglio autunnale le nuove vegetazioni i nuovi germogli le nuove crescite e anche dionea si muove in autunno con questa fase pre riposo che però è una fase attiva quindi la si può rinvasare le si può mettere mano lo facciamo volentieri dandole una nuova casetta questo nuovo plateau royal questo piatto reale di dionea che avrà come base unicamente un sottovaso e andiamo quindi alla realizzazione pratica considerando appunto quello che è il sottovaso come principe del lavoro non abbiamo bisogno di null'altro lui sarà il contenitore sia del substrato quindi della torba pura perdione ragazzi serve solo torba pura la perlite è inutile quando la torba è di buona qualità è inutile che andiamo a mettere anche perlite quindi prendiamo questo sottovaso in questo caso diametro lo vedete 34 cm per essere proprio precisi e lo andiamo a riempire di torba pura già umidificata già bella pronta per ricevere nuova acqua successivamente senza creare quelle che possono essere delle idro repellenze e quindi si va subito a idratare l'andiamo a colmare andiamo a creare quella che è la nostra collinetta ci serve un'altra cosa pratica per poter effettuare il lavoro cioè questo vasetto alto 6 cm che poniamo al centro in alto come se fosse un pozzetto di raccolta dell'acqua perché quando andremo ad irrigare non vogliamo fare il buco sarà il pozzetto nel quale verseremo l'acqua senza che si vada poi a distruggere la nostra collinetta soprattutto quando poi ci saranno le piante ed ecco che lo andiamo a sistemare al centro come se fosse il cratere del nostro vulcano e poi e poi tocca andare a sradicare le dione dal vecchio substrato dal vecchio vaso dentro cui sono collocate e lo facciamo senza avere paura quando andiamo a manipolare le dione certo e le loro trappole si romperanno qualche foglia si romperà si staccherà ma non c'è problema quello che conta è la salvaguardia del rizoma di questo io lo chiamo sempre di questo finocchio lo ho fatto sapete come sono fatte le dione con foglia una sopra l'altra non abbiamo necessità di essere particolarmente delicati dione sono robustissime le andiamo a staccare certo è un lavoro di pazienza le andiamo a togliere dal loro substrato e una volta raccolte tutte senza lasciare indietro neanche una neanche le più piccoline le andiamo a lavare abbondantemente con acqua corrente del rubinetto a getto così a pioggia forte con quella che può essere una buona pressione per poter lavare via il vecchio substrato guardate ed ora una volta che le abbiamo tutte quante recuperate dal vecchio substrato siamo pronti per quella che è la sistemazione nella nostra collinetta nel sottovaso lo andiamo a comporre quindi io in questo caso parto dall'alto e comincio tenendo una distanza abbastanza precisa e comunque regolare l'una dall'altra circa due centimetri parto dall'alto e comincio a riempire questa torta questa collinetta di dione mi raccomando sporchiamo sempre prima bene le radici con la torba nuova fresca in modo tale che si trovino subito a loro agio nel substrato nuovo e andiamo ad effettuare il lavoro questo è un lavoro anche di divertimento ma certamente di pazienza e infatti sì dopo molte dione è calato anche il sole lo vedete siamo arrivati in fondo abbiamo guarnito la nostra torta la nostra collinetta fatta di trappole lo vedete certo non è vi ripeto un pronto effetto non è bella adesso ma è un investimento che facciamo per la prossima primavera adesso una bella nebulizzata anche per lavare per stabilizzare per pulire le foglie dalle bricioline di torba e poi andiamo a mettere acqua e lo vedete qui a che cosa serve questo vasetto come se fosse appunto il cratere del nostro vulcano lo andiamo a utilizzare come caduta acqua non si formano buchi l'acqua va a saturare guardate come se la beve bene la torba va a saturare tutto il substrato e quando vediamo che il livello lo vediamo dal bordo è giunto colmo noi possiamo fermare manteniamolo sempre al livello massimo possibile a questo punto la nostra torta il nostro plato royal di dionea è pronto che cosa posso aggiungere come consiglio certo quello di coltivarlo come dionea e quindi facciamo attenzione che qua abbiamo a che fare con uno strato di torba di substrato relativamente basso non appoggiamolo in un pavimento di piastrelle non appoggiamolo in terrazza perché qua il calore si trasmette molto velocemente quindi cerchiamo di tenerlo rialzato rispetto a quello che può essere un pavimento oppure le possiamo coltivare su un tavolo manteniamo sempre alto il livello dell'acqua perché si asciuga molto velocemente sempre in virtù del fatto che lo strato non è molto spesso e quindi facciamo sempre attenzione lo vediamo da dentro al nostro vasetto e poi abbiamo pazienza cerchiamo di avere pazienza e vedrete che la prossima primavera il risultato sarà eccellente sarà una collinetta una torta un plateau royal di venere pigliamosche cari pigliamosche sono contento di aver esaudito le vostre richieste in merito alla pratica della realizzazione di questa collinetta di trappole noi ci vediamo al prossimo video e fino al prossimo video mi raccomando rimaniamo sempre svegli perché chi dorme non pigliamosche ciao considerando che questa realizzazione in fondo non è che una mini torbiera noi possiamo pensare di farla con qualunque tipo di pianta carnivora da torbiera a me piace farla monotematica quindi saracenia purpure o dionea o drosera o pinguicola anche se vogliamo però a seconda dei gusti si può effettivamente mixare oggi la facciamo con dionea ma è una cosa che effettivamente può avere un buon risultato finale anche quando è un piatto misto diciamo così grazie a tutti